Mi chiamo Floriano, ho compiuto da poco 86 anni e mi sento ancora in forma. Con i capelli e la barba bianchi inizio ora il mio breve racconto, una storia ordinaria di una vita vissuta intensamente. La luce del mattino filtra attraverso le tende di lino, accarezzando il mio viso mentre mi sveglio. Credo che ogni rugato mio volto racconti una storia, un'avventura vissuta. Mi preparo una tazza di caffè decaffeinato, godendomi il silenzio del mattino. I miei movimenti sono lenti ma decisi, ogni passo è un'inno alla saggezza accumulata. Come rabdomante ho trascorso anni a scoprire sorgenti nascoste, affinando un legame profondo con la terra. Ho sviluppato una passione per il vino, diventando un esperto degustatore e conoscitore delle sue spumature. Esco per fare due passi nel bosco, mentre il sole splende e l'aria è fresca. Ogni persona che incontro sembra riconoscermi come un vecchio amico. Giunto al parco mi siedo sulla mia panchina preferita. Guardo le foglie da alzare nel vento e sento una profonda gratitudine per i miei 86 anni. Ogni anno è un tassello prezioso e un mosaico unico, e la mia storia non è solo un ricordo del passato. Continuo a vivere con il cuore aperto e lo spirito curioso, abbracciando ogni istante con intensità, perché so che la bellezza della vita risiede proprio in questa profondità. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!